Paura nella notte a Pescara per un incendio in via Trigno nel quartiere Rancitelli dove le 2.46 si è sviluppato un rogo che ha investito sei auto e cinque moto parcheggiate sotto al porticato di uno stabile del civico 22. Il fumo invaso l'androne del condominio e alcuni inquilini sono usciti in strada. Il palazzo è stato evacuato per motivi di sicurezza durante le operazioni di spegnimento del rogo. Sul posto hanno operato fino alle 7 diverse squadre dei vigili del fuoco e agenti della polizia di stato. Alcuni anziani e bambini si sono sentiti male e sono stati quindi trasferiti con alcune ambulanze in ospedale dove sono finite anche sei poliziotti leggermente intossicati. Altre persone sono state invece assistite e medicate sul posto dai sanitari del 118. Sulle cause all'origine del rogo gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. Al termine delle operazioni di estinzione del rogo i vigili hanno provveduto ad una prima verifica tecnica e non sono stati rilevati danni strutturali. Si è reso comunque necessario interdire l'accesso al porticato e al balcone dell'appartamento al primo piano e sono stati interrotti gas e parte della linea elettrica sollecitando verifiche da parte di tecnici e ditte specializzate, posti sotto sequestro ai motorini da cui si sarebbero sprigionate le fiamme.